Buona giornata amici, oggi è venerdì 26 novembre 2021. Ebbene siamo ormai vicini all'atmosfera di Natale, domani dovrebbe essere il giorno in cui poi si accenderanno tutte le luminarie in modo particolare a Fano ma anche nelle altre località, comincia a sentirsi questa atmosfera delle festività. E allora noi oggi cominciamo la giornata come sempre, dando un'occhiata ai giornali a partire dal Corriere Adriatico questa mattina e poi all'arresto del Carlino, ma prima facciamo una pausa per riflettere sul santo del giorno e poi il meteo. Oggi è San Leonardo da Porto Maurizio. Porto Maurizio è una località della Liguria. San Leonardo fu un santo francescano che visse nel XVII secolo. Fu un grande predicatore e ottenne molte conversioni grazie al suo carisma nel momento in cui predicava. A lui si deve in modo particolare la diffusione della Via Crucis. Fu canonizzato da Papa Pio XI e proclamato patrono delle missioni popolari. Un santo, Maurizio poi è un nome molto diffuso, quindi facciamo tanti auguri a tutti coloro che hanno questo nome. Ed ora passiamo alle condizioni del tempo. Il meteo di oggi evidenzia un po' di sole, un po' di nubi. Comunque ci dovrebbe essere una progressiva diminuzione delle piogge. Ci sarà una pausa nella mattinata con annuvolamenti sparsi e schiarite. Ci sono anche possibili piovaschi nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 7 gradi, quindi sono sensibilmente in calo, e i 13 per quanto riguarda la massima. Ed ora vediamo le prime pagine dei giornali a partire dal Corriere. La sintesi che si fa sulla pagina iniziale. Famiglie divise dal Super Pass. Bene salvare il Natale, ma i ristoratori temono defezioni per cene sociali e gruppi tipiche delle feste. Insomma, ci sono pareri controstanti sull'applicazione di questo nuovo provvedimento che privilegia ovviamente coloro che hanno assunto il vaccino. Nelle Marche c'è anche da risolvere però il nodo trasporti. L'assessore Castelli, assessore regionale, dice un confronto con le aziende per i tamponi sui bus. Perché poi sui bus non serve portare il Green Pass, ma occorre avere dei tamponi, secondo l'assessore. Ressa a muraglia per vaccinarsi. Da oggi nuove modalità per le dosi. C'è una cresciuta affluenza per quanto riguarda il pubblico nei centri di vaccinazione. Lo è anche nel hub di Fano, ma un po' in tutte le Marche. E poi le tre notizie che vengono riassunte a centro pagina. Nostrano trasloga all'Excelsior, patto Ciotti e Filippetti, un patto tra imprenditori questo. E poi a Pesaro, via Fratti, la pista ciclabile perderà il ponte sul Genica. È una costrizione del Regione. E per quanto riguarda Fano insorge il quartiere del Poderino, che reagisce e punta a una rete solidale per dare un senso di solidarietà, soprattutto alle famiglie che si trovano in difficoltà. Una notizia di cronaca, sintetizzata a fondo pagina, impose l'amante alla moglie, condannato marito violento. All'uomo sono stati inflitti tre anni e tre mesi. La legale è una vittoria per tutte le donne. E coincidenza, voluta o non voluta, comunque questa sentenza viene emessa nel giorno della dedicazione al pensiero della violenza sulle donne. Apriamo le pagine e veniamo subito alla situazione del Green Pass, anzi del Super Green Pass. Dallo sport agli alberghi, meglio il Super Green Pass che rischiare il lockdown. Parlano così diversi rappresentanti di categoria, diverse personalità che occupano posti di rilievo. Le associazioni sulla manovra misura anti-Covid è inevitabile, affermano. Per i trasporti pubblici, organizzazione dei controlli, sarà a campione. Dicevo ci sono diverse personalità, vediamo quali sono. Sono Fabio Luna, che è presidente del CONI, delle Marche. Difficoltà per i giovani atleti non vaccinati, prevede. E poi Massimiliano Polacco, presidente della Confcommercio. Adesso l'obiettivo è non fermare più le attività. Si preoccupa così. Guido Castelli, assessore regionale ai trasporti. Sui trasporti, una stretta che darà più sicurezza. E poi Claudio Schiavoni, presidente della Confindustria. Una cosa buona, cercare di contenere i contagi da Covid, afferma. Emiliano Pigliapoco, presidente di Federalberghi. Questa misura penalizza il settore, ma è necessaria, ammette. Ed infine Sandro Assenti, presidente della Confesarcenti. Non è una misura punitiva, serve per le festività. Vedete dunque come i pareri non sono molto discordanti, ma tutti accettano, fanno insomma di buon grado, diciamo così di cattivo grado, un'accettazione che viene così tollerata per necessità. Andava più veloce di noi, ma adesso dietro il virus c'è un esercito che corre. Parla così Donati, il professore Abele Donati, direttore di rianimazione di Torrette. La mia battaglia contro il Covid, dice. Gestire una pandemia è qualcosa che non ci si insegna all'università. Ci avevano insegnato cosa fosse, ma non come affrontarla. E così abbiamo dovuto fare tutto da soli. All'inizio non sapevamo neanche come indossare i dispositivi di protezione, ha ammesso il primario. Però, insomma, di progressi ne sono stati fatti molti. E vediamo ora le altre notizie. Con tre studenti positivi scatta la DAD per la classe, la didattica a distanza. Sono entrate in vigore le nuove regole per la gestione del Covid nelle scuole. C'è, con un solo caso, un tampone immediato per tutti i compagni e anche per l'insegnante. Sono queste, appunto, le nuove regole che governano un po' la didattica negli istituti scolastici. E poi ancora, feste da salvare, ma clienti a rischio discriminazione. Dopo aver fatto una ricognizione sui pareri a livello regionale, ora il Corriere Adriatico accentra la sua attenzione su alcuni pareri a livello provinciale. Feste da salvare, ma clienti a rischio. Chi è che lo dice? Sono coloro che rappresentano un po' i vari settori del commercio. Per la ristorazione dicembre è un mese importante, almeno potremo lavorare. Così ha dichiarato Mario Di Remigio di Polopasta e Pizza. Scusate. E poi ancora, Nanni Marcucci Pinoli, noi albergatori impegnati con i last minute, affrontiamo l'incertezza con più serenità, grazie appunto al Super Green Pass. Lo applicheremo certo anche se conosco clienti affezionati che non potremo più ricevere, ha detto Samuele Colocci del ristorante da Silvana, e continuare a protestare contro i vaccini è assurdo, però ora è meglio l'obbligo. Lo dice così Lorenzo Vedovi di Ristori Italia. I problemi si porranno però per le comitive e per i gruppi di ragazzi che non potranno così festeggiare tutti insieme le festività, magari andando al ristorante. Non solo i docenti obbligati, passa anche per gli studenti, e la proposta del dirigente dell'Istituto Marconi Rossini, il preside Rossini, a scuola, momento complesso e certo non facile da governare. Muraglia, l'assalto a Lab, a caccia della terza dose, ressa e ingorghi in mattinata di ieri. Una fila di persone in attesa sotto la pioggia, impennata di richieste nell'ultima settimana con affluenza raddoppiata. Insomma, ieri erano 250 i soli prenotati, mentre circa 400 coloro che si sono recati al centro vaccinazioni senza alcuna prenotazione. Ma ieri questo sistema è stato messo a dura prova. Numerose le terze dose e tra i non prenotati anche tanti pesaresi giovani o di media età, in attesa della prima dose. Qualcuno dunque si convince anche ad assumere il vaccino e non l'aveva mai fatto fino adesso. Contagi da zona rossa, ma non è colpa di Vale, Vale e Valentino ovviamente, e si parla di Tavuglia, dove è scoppiato l'allarme rosso nella città gialla, così viene definita per il colore preferito di Valentino. Contagi in aumento vertiginoso a Tavuglia, comune con una delle più basse percentuali di vaccinati nelle Marche, appena il 72%. L'acciclabile di Via Fratti può partire, ma sacrificando il ponte sul Genica. Parla così Pandolfi, che è il consigliere di maggioranza, Luca Pandolfi. Una prescrizione rigida della Regione, giustifica così la decisione, rischiavamo ritardi, lunedì il voto in Consiglio Comunale. Verrà inserito questo ponticello e questo completamento dell'acciclabile in una seconda fase nel piano complessivo di un itinerario a fianco di tutto il torrente. Dunque per il momento no, però l'idea di completarlo non è tramontata. E qui l'accordo tra due imprenditori, sono Ciotti e Filippetti, hanno concluso un patto stellato, ovviamente si parla di ristorazione, Nostrano trasloca l'Excelsior. Il locale si è ristruttura. Dal 15 dicembre per tre mesi l'hotel accoglierà il ristorante. Si tratta ovviamente di Stefano Ciotti, chef stellato e l'imprenditore altrettanto stellato, Nardo Filippetti. Alla moglie ha imposto anche l'amante, una pesante condanna per il marito violento. E leggendo questo articolo pubblicato dal Corriere Adriatico, c'è insomma da rabbrividire, perché le vessazioni e le violenze perpetuate nei confronti della moglie da questo 57enne pesarese sono state veramente terribili. Non ha usato affatto mezze parole, ma proprio ha infierito, proprio con la tracotanza di colui che si sente onnipotente nei confronti della moglie. E questo anche in presenza della figlia minorenne. Ebbene dovrà scontare tre anni e tre mesi. La legale Perricci, che ha difeso la moglie, dice questa vittoria un punto fermo per tutte le donne. E ancora sulla pagina del Corriere Adriatico, a Pesaro, PMI Day, sono le piccole e medie imprese, le aziende a scuola coinvolgendo 1700 studenti. Si tratta di un progetto formativo di Confindustria che proseguirà fino al prossimo gennaio. Mondo scolastico e mondo dell'imprenditoria, mondo del lavoro, dovrebbero andare spesso insieme. In realtà sono spesso distanti. E quindi queste iniziative, che cercano di far dialogare questi due ambienti con progetti ad hoc, sono quanto mai opportune. Ancora sul Corriere Adriatico, laureato spaccia marijuana ai college ad Urbino, incastrato dagli agenti finti elettricisti. Si tratta di un tunisino di 31 anni, ex studente di economia, ha patteggiato un anno e 2.600 euro di multa. E poi vediamo come restano gravi le condizioni dell'anziana investita nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Donizetti a Ferminiano, a ridosso di un incrocio stradale. Resta grave a Torrette. La donna ha 83 anni e accertamenti vengono fatti in corso dagli inquirenti. A Fano ieri si è svolto il Consiglio Comunale monografico sulla violenza alle donne. È intervenuto anche il procuratore Tedeschini. Si tratta di una donna che è rimasta veramente contenta di aver partecipato a questa iniziativa. Di fronte a una platea, la vedete qui, gremita di studenti delle scuole superiori fanesi. Violenza contro le donne e tutela. Il procuratore davanti a centinaia di studenti dichiara ci sono vuoti normativi. È una constatazione che fanno anche gli addetti ai lavori. Occorre avere più protezione per le donne che hanno il coraggio di denunciare. Povertà, aiuti e numeri reali. Gli interrogativi di Tomassini, dirigente nazionale delle ACLI, serve un coordinamento e si tratta della difesa delle condizioni economiche delle famiglie, specie le più deboli. E a proposito di povertà, vediamo qui un altro articolo che proviene dal quartiere del Poderino a Fano. Poderino reagisce e fa rete, così aiutiamo i residenti. Sono state presentate ieri le iniziative da parte della Caritas Parrocchiale e dell'Associazione Vivere Poderino. E c'è anche il tutto sospeso. Ci sono tanti negozi che hanno aderito a questa iniziativa. Ci si può andare lì e acquistare dei buoni da 2,5, 5 e 10 euro con i quali puoi aiutare tutti coloro che si trovano in difficoltà. E purtroppo le famiglie in queste condizioni del quartiere sono in aumento. Fossombrone, Liporto, manovre al buio manca la luce da due mesi aperto e a ridosso dell'ospedale di Fossombrone ora viene gestito a distanza. Insomma, sembra che per accendere le luci all'eliporto di Fossombrone occorre premere un interruttore in ancora. Insomma, mi sembra un po' strano e mi sembra un po' strano anche l'articolista Roberto Giungi che ha scritto appunto questa notizia. Presepi in mostra nella Pieve restaurata l'apertura domenica alle 15 grazie al Borgoville c'è con la Santissima Pietro e Paolo. Insomma, si parla sempre di più del Natale nelle quotidiane questa mattina. E vediamo anche il resto del Carlino. Superpass tanti tifosi in sospeso infatti non si sa che cosa debbano se possono vedere le partite o meno questi tifosi che non sono vaccinati. VL vi se fanno incerte su cosa fare con chi è già abbonato ma non ha intenzione di vaccinarsi. Punto interrogativo. Vedremo come lo risolveranno nei prossimi giorni. Vaccini assalti e proteste a lab di Muraglia si scontrano prenotati e non a causa delle lunghe file e poi altre notizie sintetizzate nella prima pagina mercato delle erbe troppe scatole sul pregiato portale insomma si stanno facendo dei lavori che impicciano arrestato ai Durbini un spacciatore di marijuana era uno studente che vendeva una ragazza e poi ancora donne con i guantoni donne boxer Valentina segue i sogni sul ring il suo allenatore ebbene lui ha 74 anni cofcommercio il rilancio parte anche dal turismo San Bartolo da valorizzare e per quanto riguarda lo sport le due notizie a fondo pagina Cioppi presenta l'EMB VL più forte per il basket e per il calcio visse verso Montevarchi il prossimo incontro Fano vasto su esposto Apriamo subito le pagine interne vediamo gli interrogativi sul Super Green Pass il Super Green Pass non ci fa paura parlano così baristi e ristoratori che sono un po' oggetto di controlli sono sul filo del rasoio Di Remigio dice potrebbe danneggiare le famiglie visto che tanti ragazzini non sono vaccinati e a Natale complica un po' le cose insomma ci sono commenti positivi e commenti negativi però prevalgono i positivi Stadi e Palazzetti l'incognita degli abbonati VL spiazzata il presidente Costa io non credo che chi è senza dose entri Visefano nell'incertezza ridaranno soldi indietro agli abbonati è ancora un altro punto interrogativo e vediamo l'incrocio tra prenotati e non causa muraglia folla in fila sotto la pioggia per i vaccini dopo le proteste e i disagi ora Marche Nord cambia da oggi alle 11 e dalle 11 e alle 12 100 posti liberi ogni ora in base all'orario di arrivo abbiamo preso delle ore di permesso del lavoro hanno dichiarato alcuni utenti questa situazione così non è accettabile insomma si perde molto molto tempo e ci vorrebbero più medici a disposizione più vaccini insomma si sa però quante difficoltà queste cose comportano nella organizzazione dell'assistenza sanitaria e come se non bastasse sono state rimosse anche se auto di vaccinanti si parla della confusione di ieri mattina non essendoci posto con l'acqua battente molta gente ha lasciato la vettura fuori dagli spazi e quindi anche la multa oltre al disagio e queste abbiamo le due pagine pubblicate dal Carlino sulla violenza alle donne le donne gridano aiuto quasi il 30% in più il numero di accessi al centro di aiuto della TS1 è aumentato del 26% rispetto al 2002 in crescita sull'anno scorso anche le denunce qui veniamo in questa tabella le percentuali e i numeri per quanto riguarda quello che è accaduto dell'anno in corso 46 sono gli atti persecutori 78 i maltrattamenti in famiglia 9 gli ammonimenti per stalking 4 gli ammonimenti per violenza domestica e purtroppo Simona Porceddu il femminicidio il 12 dicembre 2020 è stata la vittima uccisa a Novilara muovente gelosia l'avvocato Santorelli l'universo femminile adesso ha acquisito maggiore consapevolezza nel riconoscere i segnali dei surprusi e poi ancora le manifestazioni che si fanno per sensibilizzare la popolazione contro la violenza alle donne quelle scarpine in ricordo dei più piccoli la manifestazione che si è svolta in piazza vogliamo ricordare anche i minori coinvolti nelle strage e i traumi che sono costretti a subire Valentina e i prugizi e i pregiudizi li prende a pugni si tratta di una sedicenne del liceo classico che insomma fa uno sport particolare per le donne ovvero la boxe e ha convinto un 74enne a tornare sul ring per allenarla la boxe regala un grande autocontrollo ha dichiarato ma ci sono anche i ragazzi che prendono la cosa con ironia ma se litighiamo tu mi meni le dicono io però risponde lei fuori dal rettangolo sarei l'ultima ad alzare le mani dolce questa ragazza presunta psicosetta onde delta tutti assolti tra gli otto imputati avanti al tribunale d'appello di Sassari anche un pesarese e un urbinate accusati di abuso della professione e veniamo direttamente alla pagina di Fano commissariato sul piatto l'aumento d'organico in ballo c'è il passaggio di livello al tavolo per il comparto sicurezza convocato dal presidente del consiglio regionale insomma sembra che qualcosa si muove per rinfoltire l'organico del commissariato di Fano che da anni è deficitario e poi si parla di carnevale questa mattina sul resto del carlino carnevale 130 mila euro per il 2022 confermati i contributi del comune per noi dovrebbe essere a febbraio dice così l'assessore agli eventi Etienne Lucarelli però anche qui di punti interrogativi ce ne sono molti e vediamo ancora Santorelli su questa pagina del resto del carlino la foto scusate Lucarelli su questa foto del resto del carlino perché Lucarelli durante il voto sul bilancio si sta parlando di bilancio preventivo in giunta a Fano esce perché il suo settore ha avuto pochissimi finanziamenti ha deciso di non partecipare a causa di tagli previsti per il suo settore escluse spaccature all'interno dell'esecutivo ma questo atto dell'uscita dalla stanza dove si tiene la riunione di giunta è piuttosto significativa il poderino fa quadrato una rete di solidarietà costituito un insieme di attività che soccorrono chi ha bisogno Roberto Ansuini volontario Caritas la pandemia ha accentuato le difficoltà ha dichiarato Fano contro la violenza sulle donne testimonianze anche al Torelli il Carlino evidenzia la storia di Sabrina Blotti vittima di femminicidio che è stata al centro della mattinata degli studenti a San Lorenzo in campo strada comunale al via ai lavori per la sicurezza sono iniziati gli interventi del secondo stralcio operativo per la regimazione delle acque meteoriche e veniamo ora ad una notizia di sport Fano ci fa un pensierino esposito verso la cessione insomma si pensa di vendere questo giocatore il talento di centro campo fino ad ora è stato condizionato dagli infortuni e la società potrebbe privarsene un addio anche per motivi extra calcistici dall'Abruzzo c'è un interessamento della Vastese dove il fantasista ha militato due stagioni fa e vediamo invece la vis prove tecniche ed impresa è una vis ad alta intensità allenamento dove emerge la voglia di riscatto quello di ieri al supplementare un tiro al volo di Tonso su cross di Rubin scalda i cuori ai tifosi infreddoliti e certo con questi climi insomma le partite non sono certo agevoli vedremo come si comporterà con il Montevalti era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 e per le notizie del giorno non perdete il Tg di questa sera alle ore 23 condotto da Simona Bonzetti scusate Zonghetti e questo è tutto per il momento a risentirci grazie a tutti